Oggi andremo su Fortnite, perché devo sbloccare un ombrello. A partire da oggi faremo così, gli abbonati possono avere la mia amicizia. Chi vuole giocare con me, invece, può riscattare il gioco con te su Fortnite. Si spara sti 500 punti canale, andiamo a fare una squad. Vediamo se riusciamo ad ottenere questo ombrello. In realtà questo ombrello si ottiene quando si fa una vittoria reale. Ovviamente la vittoria reale si deve fare o su solo, o su duo, o sulla squad. Non si può fare però nella rissa squadra, non valla. Quindi mi raccomando, non cercate di fare i furbetti che non vi dà il premio. Quindi quello che andremo a fare noi è cercare di vincere l'ombrello, chiamato ombrello dell'ultima realtà. Perché mi fate mettere l'audio se poi quando dobbiamo andare in un posto cambiate senza dirmi niente? Ma quanto è bello il mio ombrello fuccioso, guarda, con lo stacchiotino. Ah, i fili elettrici! Me ne vado qua a prendere sto bel mito. Ma che cos'è quello? Una banca? Cos'è sto coso? Cassetto a donazioni. Aspetto che qua c'è il bambo a fucile. Allora, allora, teniamo gli occhi aperti perché c'è un team qua. Ciao chimico, ciao elettrode! Ma quelli sono dei tunnel che possiamo volare? Sì, come l'I-69. Bello, bello. Voglio provarlo subito. Oh, 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 ma chi ha incendiato qua ragazzi? Sì, dai, fettenti. Ok, l'avete voluto voi. Estinzione! Aia! Aiuto! Che succede? Eh, l'estinzione dei dinosauri, va bene. Così imparano a fare i fighi. Se volete qua c'è una jump. No, non se vede, dobbiamo andare solo qua sopra e basta. Volare! E adesso si vola! Ok, mi sa che non era la strada giù. Cos'è quel coso? C'è un rift. Cosa? Ma c'è un rift. Aspetta, aspettaci, aspettaci. È quello degli zombie? Sì. Ah! Ma! Giulio che mi stavo aspettando! Mi ha aspirato a lui. Aiuto! Che ho fatto di male per meritarmi questo. Sì, con la macchina. Grande, dammi. Sì, 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 sì. Il boss, il boss. Oh! La voglio subito questa cosa. Cos'è? Oh, nel fantasma, Sparks. Come si toglie sta cosa del fantasma? Le posso lasciare un attimo soli. Cartonno? Mo' la proviamo. Non l'ammazzare, non l'ammazzare. Devo provare quest'arma. A me è una... Uh! Andiamo a prendere il loot. Io mi devo quest'arma che fa schifo. Ah! Fermi, fermi. Che cos'è che sto qua? Un fucile a pompa pesante. Potremmo lasciarmi un po' di munizione? No, no. Cos'è? No, è la mia! Denis, sei un looter del cavolo! Dammi con l'arma! Vedente! Mi da un po' di munizioni. Va bene, ti do il pompa, dai. Munizione del pompa mi servirebbero. Ah, io l'ho bleffato! Via, via, corri, 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 corri! Allora, qua ci sarà sicuramente qualcuno, quindi, da killare. E lo killiamo. Ezz! No, era un bot! Niente! Quello non era un bot! Ok, uno buttato giù. Ragazzi, ma è da nerfare sto cosa! È una bomba! È qualcosa di pazzesco sto fucile. No, è una bomba, ragazzi. Dai, ho un team e sarà davanti a noi. Oh! Ezz! Faccio questo. Dove volevo! Dove atteri? Dove ho l'alberello, atteri? Dove ho l'alberello, atteri? Poi, tente! Si sta boxando, lo lascio io. Dovevi uscire da là, no? Mister intelligentone! Felicentone! Sè! Con un hit sotto pure! Ma era io che ho fatto l'ultimo kill, scusa. Credo che siamo riusciti a sbloccare l'ombrello. Eccolo qua. Ombrello dell'ultima realtà, ragazzi. L'abbiamo sbloccato. Come dicevo prima, serve una vittoria reale con i vostri compagni di squadra o in solo, ma non vale in rissa squadra. E in questo momento ci siamo sbloccati l'ombrello dell'ultima realtà. Abbiamo sempre città dei cubi. Cosa? E abbiamo così, noi sbloccato, finalmente. Gratis! E ci vediamo su Discord. E comunque domani, in live. E su YouTube. Bella! Su YouTube il video, non la live. Ciao! Ciao!